Sì, inizieremo il 5 di agosto con il pellegrinaggio cittadino della città di Caltagirone, la celebrazione presieduta dal Vescovo a conclusione dei pellegrinaggi dei comuni della Diocesi. Poi una ricca novena con tanta partecipazione di popolo come ogni anno, ma in modo particolare l'8 e il 9 agosto accoglieremo il reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, che ci accompagnerà in questi giorni di novena. Il clou della festa sarà il 14 e il 15 di agosto con le celebrazioni che saranno presiedute da sua eminenza il cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. In modo particolare la Messa dell'Aurora, che quella celebrazione clou è anche molto sentita dal popolo alle 5 e mezza del mattino del 15 agosto, che sarà presieduta dal nostro Vescovo e al termine impartirà la benedizione papale, proprio in questo giorno così particolare dei 450 anni. Inoltre le processioni, quella matturina del 15 agosto alle 6 e mezza del mattino e la sera alle 21 fino a Piazza Municipio, dove ci sarà l'atto di affidamento della città e della Diocesi alla Madonna del Ponte. Inoltre poi il 22 di agosto, dopo un ottavario, concluderemo tutte le celebrazioni e anche l'anno giubilare mariano con una solenne celebrazione eucaristica alla presenza del clero diocesano, del prefetto, dei sindaci dei comuni della Diocesi e di tutto il popolo santo di Dio, dove anche a fine, con una solenne processione fino all'antico santuario, chiuderemo la Porta Santa e concluderemo i festeggiamenti e l'anno giubilare mariano. Salvatore Pasquale, vicario generale della Diocesi di Caltagirone, 450 anni dall'apparizione della Madonna del Ponte, un evento che non è solamente per Caltagirone ma è diocesano. Quali sono le indicazioni che ha dato Sua Eccellenza Monsignor Peri? Ebbene, quest'anno l'evento della festa della Madonna del Ponte è caratterizzato dall'aver celebrato in questo anno che è appena trascorso dall'agosto dello scorso anno ad oggi, il 450esimo anniversario dell'apparizione della Madonna qui a Caltagirone sul pelo dell'acqua della Fonte. Bene, il pensiero del Vescovo è stato tutto interamente presentato da lui stesso nella lettera con cui diceva proprio l'anno giubilare Ave Maria, fonte d'amore e ponte di Dio. Ecco, qual è l'intento del Vescovo? L'intento del Vescovo è che in quest'anno giubilare, anno di grazia, anno straordinariamente importante per tutta la Chiesa Galatina e per quanti, al di là della stessa Chiesa Galatina, vengono così a far tesoro di questo beneficio, ecco, ritrovare quella speranza, lasciarsi illuminare dallo Spirito Santo e in questo momento difficile, ecco, non smarrirsi ma ritrovare speranza, ma quella speranza che si ritrova nell'esperienza della misericordia di Dio, perché così come ci insegna il nostro Vescovo è proprio nell'esperienza della misericordia di Dio che noi troviamo lo specifico dell'apparizione, perché nel misura in cui facciamo tesoro del perdono di Dio, ciascuno di noi sa benissimo che può ricominciare sempre da capo.